La sindaca Raggi fa sapere che vuole gestire il Comune di Roma un po' come un blog con petizioni online, voti online e Sabino Cassese prende carta e penna e scrive un pezzo per il Corriere molto interessante in cui dice che uno dei problemi grandi di questa idea è che l'idea dei grillini di introdurre il referendum dei cittadini senza quorum si presta a manipolazione della volontà popolare. Poi come vi dicevo ricorda la frase di Bobbio sul fatto che nulla rischia di uccidere la democrazia più che un eccesso di democrazia e subito dopo il blog di Grillo risponde a Cassese e dice si consiglia all'autore di questo strampalato articolo adesso che mo Cassese scrive cose scrampalate mi sembra un po' tanto di fare una gita in Svizzera dove così come nella maggioranza degli stati del mondo non è previsto il raggiungimento del quorum per rendere valido il risultato di un referendum. è stato in Svizzera a farsi un giro? Non avevo neppure letto la reazione di Grillo quindi non ci sono ancora andato ci vado subito poniamo il caso che ci siano 3 milioni di abitanti a Roma e poniamo il caso che venga sottoposto al referendum una decisione del comune per esempio di sviluppare la città amministrativa in una certa zona e poniamo il caso che a questo referendum sottoposto votino, che ne posso dire, 5 mila persone su 3 milioni di abitanti secondo lei è una decisione chi sta decidendo cioè questo si presta a qualunque colpo di mano ma la cosa ancora più grave, quello che non ho scritto lì è che i grillini dovrebbero sapere che esistono dei modi razionali quello che si chiama democrazia deliberativa per raggiungere il loro obiettivo e cioè gli americani la chiamano notice and comment i francesi la chiamano enquête publique cioè quando ci sono delle decisioni importanti si stabilisce un dialogo strutturato con delle procedure con i cittadini dopodiché decide la pubblica amministrazione o il comune, il consiglio comunale, la giunta e così via quindi la cosa che è grave non solo è quella di rimettere in mano anche esigua minoranza una decisione che riguarda tutta la collettività ma anche quella di non capire che vi potrebbero essere dei modi veri, seri per ascoltare i cittadini allora voglio sentire anche su questo